estia e l'energia della sacerdotessa volevo parlarvi di estia in funzione dell'energia che si sta sviluppando in questo momento ovvero che noi siamo pronti a ricevere in questo momento e ne volevo parlare con questa particolare dea del panteon greco perché è molto 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 in linea col tipo di energia che noi siamo pronti a ricevere in questo momento i miti servono fondamentalmente alle popolazioni per alla coscienza collettiva per riuscire ad identificarsi in qualcosa è più facile comprendere un qualcosa che non è visibile che non è palpabile se viene raccontato sotto forma di un qualcosa che noi conosciamo quindi il panteon greco se ci pensate è molto 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 simile ad una famiglia con tutte le loro con il bene con il male con i tradimenti gli amori e tutte queste cose insomma quindi con i litigi con le persone che non si parlano più assomiglia veramente tanto no alla vita umana perché veniva utilizzato questa questa modalità di racconto del divino così tanto umanizzato perché serve alla alla persona comprendere le proprie potenzialità sotto forma di un racconto dove il divino viene umanizzato ma allo stesso tempo è divino quindi può fare delle cose ecco che noi ci riconosciamo ma allo stesso tempo prendiamo spunto di quello che possiamo fare ecco questo è un po il senso del mito ecco che viene veramente a nostro vantaggio raccontare di questa aldea di questa primogenita tra l'altro di zeus che avrebbe avuto proprio per questa sua primogenitura diritti molto importanti nell'olimpo ma lei in realtà penso bene di tirarsene fuori viene spesso identificata come la dea che in qualche modo incarna iside la dea egizia iside anche se personalmente trovo che non abbia attinenza su alcune cose ma iside essendo moglie madre ha delle caratteristiche che effettivamente sono proprio lontane da quelle della dea greca estia desidera e ottiene di poter restare di poter restare nubile poter restare vergine perché perché lei non è interessata alla carnalità in quanto questa carnalità porterebbe sposterebbe troppo la concentrazione su ciò che per lei è veramente importante richiederebbe energia tempo ma soprattutto concentrazione su qualcos'altro che non è che cosa la propria interiorità il suo il suo simbolo è il cerchio che in qualche modo riprende il ciclo della vita e lei è una dea che ha si guarda molto guarda molto le proprie ripetizioni guarda molto la crescita spirituale a spirale quindi si vede si osserva nella propria ciclicità e innalza il livello via via che coglie quei particolari fondamentali per poter creare delle trasformazioni vibrazionali lei è molto attenta al tempio quindi ha una grandissima cura del tempio infatti viene nominata la dea della la dea protettrice delle case in quanto appunto il tempio è la casa del divino quindi questa sua attenzione al tempio alla bellezza all'interno del tempio la porta ad essere ad avere attribuito a lei proprio questa tipica modalità di protettrice del focolare domestico quello che ci interessa comprendere proprio questa sua attitudine alla bellezza alla fisicità intesa come bellezza del fisico bellezza del fisico intendiamo alla purezza del fisico quindi il mantenere il proprio corpo vibrazionalmente elevato energeticamente attivo ovviamente alimentato e nutrito nel modo corretto ovviamente abbellito da tutto quello che è in suo in suo potere fare per abbellire nonché ovviamente con attraverso le arti come la danza il teatro il canto mantiene sempre questa sua postura di dignità e di bellezza ecco questa è la parte che ci interessa molto il fatto che estia è molto concentrata sull'abbellire se stessa ma non è non è un abbellire fine a se stesso è proprio un abbellire per generare una una corrente vibrazionale di bellezza e quindi di che piaccia ok al divino quando per esempio le dè e le sacerdotesse del tempio chiedevano portavano delle offerte e facevano delle richieste per le persone che si presentavano a loro e se erano veramente agghindate messe benissimo erano bellissime da vedere perché perché si presumeva che la divinità amasse la bellezza e questo abbiamo detto che è una parte il mito ci serve per comprendere delle cose ecco la parte della bellezza è amata dalla parte divina di noi quindi se noi vogliamo sviluppare al massimo la nostra parte divina ci dobbiamo anche occupare della nostra bellezza vuol dire mantenerci in salute vuol dire corpo sano ok ma vuol dire anche bellezza di gestualità bellezza di parole bellezza di pensieri bellezza di come si vede la vita perché si può vedere la vita in modo brutto oppure si può vedere in modo bello quindi c'è proprio questa tendenza a cercare il bello in ogni cosa questa è l'energia che siamo pronti ad attivare in noi stessi e che siamo pronti a ricevere e a iniziare per un periodo a incarnare questa bellezza prima di arrivare a definire delle azioni che porteranno poi questa bellezza in progetti in qualcosa che avrà anche a che fare con la materia bisogna proprio incarnare questa bellezza essere capaci di viverla e di assaporarla quindi quello che ci chiederà questo questo periodo da qui in avanti sarà proprio quello di cercare la bellezza in ogni cosa nelle nel modo in cui rispondiamo le persone ovviamente quando parlo della dea estia non vuol dire che dobbiamo rimanere soli che non possiamo avere un compagno o una compagna non possiamo amare non è quello è che proprio c'è una attenzione in primo luogo a noi stessi al nostro benessere poi possiamo donare qualcosa di bello agli altri e sarà proprio questo quello che ci sarà chiesto in questo periodo un abbraccio